Buongiorno a tutti, sono il dottor Daniel Martens, responsabile dell'unità operativa semplice di andrologia dell'ospedale di Vaio in provincia di Parma. Ringrazio il professor Antonini per questa bellissima esperienza che mi ha offerto per approfondire la tecnica di impiantologia protesica con un accesso infrapubico estremamente valido che semplifica e riduce soprattutto i rischi infettivi. Ancora grazie soprattutto per avermi dato la possibilità di operare, di assistere, di aiutarlo in prima persona per l'impianto di tre tecniche protesica con correzione anche di curvature severe di disfunzione elettrica. Grazie. Grazie.